Classificato PG18+. Vi presentiamo l'editor Rockstar, un nuovo strumento che consente di registrare, montare e condividere video in Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online. Registra clip di gioco durante le missioni e offline con un semplice comando. Oppure, dopo una straordinaria acrobazia, usa la funzione replay-azione per registrare i momenti di gioco immediatamente precedenti. L'editor Rockstar comprende una valida suite di strumenti per la registrazione e il montaggio. Grazie alla timeline del progetto è possibile aggiungere, ordinare, tagliare e montare insieme più clip. Aggiungi un testo e i tuoi brani preferiti tra quelli delle stazioni radio o della colonna sonora per realizzare il video dei tuoi sogni. Avrai a disposizione una vasta serie di opzioni di montaggio, di visuali, di filtri, di impostazioni audio e molto altro. La modalità registra consente di realizzare delle scene personalizzando tempo, luogo e personaggi. Seleziona un personaggio della modalità storia di GTA o il tuo animale a quattro zampe preferito o addirittura un volatile. Stabilisci il luogo, l'ora, le condizioni meteo e i trucchi da applicare, come per esempio i pugni esplosivi o la bassa gravità. Una volta terminato il progetto, esporta i video nella galleria video. Carica il prodotto finito su YouTube o sul social club di Rockstar Games e condividilo con gli amici. L'editor Rockstar è un potente strumento che consente di condividere in un modo del tutto nuovo i video delle proprie esperienze in Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online. Grazie a tutti.